Spegnere un interruttore della luce, un gesto simbolico ma se fatto da tutti in grado di far sentire la forza di un'azione comune. E allora monumenti, luoghi simbolo, insegne e abitazioni, tutti sono chiamati a spegnere le loro luci per dare voce alla natura. L'invito globale arriva dal WWF per chiedere un futuro più sostenibile per tutti. Matteo Parazzini che cosa accadrà questa sera? Dalle 20 e 30, alle 21 e 30 abbiamo Air Tower, l'ora della terra, che interessa dal 2007, il WWF si impegna a livello mondiale cercando di sensibilizzare attraverso un gesto simbolico che è quello di spegnere la luce per un'ora. Il nostro obiettivo è quello di cercare comunque di riportare attenzione a quella che è la necessità del nostro pianeta, in particolar modo i cambiamenti climatici e l'alterazione di quelle che sono le perdite e la perdita delle biodiversità. Interessa 190 paesi in tutto il nostro pianeta, in particolar modo in Abruzzo, aderiranno le quattro province e tutti quanti i parchi che si impegneranno per l'appunto a spegnere le luci per un'ora. Matteo tra l'altro a questa campagna hanno aderito nomi importanti, possiamo fare qualche nome? Esattamente sì, aderisce Maccio Capatonda che a seguito della sua vittoria ha devoluto tutta quanto la remunerazione avuta al WWF, si sta impegnando in maniera considerevole con numerosissime campagne volte a prevenire il cambiamento climatico.